Elezioni in Umbria. Nonostante siano passati solo 45 minuti dalla chiusura delle urne, i primi dati dello spoglio delle schede sono eclatanti. La candidata di centrodestra Tesei è avanti di oltre 20 punti percentuali, quindi 20% di distanza dal candidato del centro-sinistra. Quindi un forte distacco tra i due principali candidati. I dati sono di consorzio Opino per la RAI. Salvini dice a occhio fatta un'impresa storica, sconfitti PD e Movimento 5 Stelle. Donatella Tesei, candidata del centrodestra, si attesta tra il 56,6% e il 60,6% e vince le regionali in Umbria. Vincenzo Bianconi, sostenuto dal centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle, è in un range tra il 33,9% e il 37,9% e quanto stimato dalle proiezioni SVG per la 7 delle 23,30. L'affluenza definitiva alle 23 alle regionali in Umbria si è attestata al 64,42%, in rialzo rispetto al 55,43 della stessa ora delle elezioni precedenti, quindi con un 9% in più. Intanto il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato all'hotel Fortuna di Perugia, dove il carroccio segue lo spoglio delle regionali in Umbria. Sfoggiando una maglietta verde ha detto che commenterà più tardi i dati e ai giornalisti che gli chiedevano come si sentiste ha risposto felice. Ad occhio abbiamo fatto un'impresa storica. Sono felice, stiamo scrivendo una pagina di storia. Matteo Salvini con una foto postata sui social, venticoscritto 27 ottobre 2019. In Umbria stiamo scrivendo una pagina di storia. Grazie con l'hashtag Elezioni Umbria, Elezioni Regione Umbria. In corsa c'erano anche altri sei aspiranti. Governatori Claudio Ricci, Italia Civica, che secondo gli exit poll di Consorzio Pino è tra l'1,5% e il 4,5%. E poi Rossano Rubicondi, Partito Comunista, Giuseppe Cirillo, Partito delle Buone Maniere, Emiliano Camuzzi, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, Martina Carletti, Riconquistare l'Italia, Antonio Pappalardo, Gile Arancioni. Ed è la prima volta che una giunta regionale Umbra non sarà guidata dal centro-sinistra. Quindi da 50 anni a questa parte, anche se alle ultime europee la Lega aveva avuto il 38%, e giunte a trazione leghista controllano già il 62% del territorio. Rilevante è anche l'incremento dell'affluenza alle urne. Alle 19 nei 92 comuni chiamati al voto era pari al 52,8% rispetto al 39,9% delle regionali del 2015. Quasi 13 punti percentuali in più. Nella provincia di Perugia ha votato il 53,09% contro il 40,63% del 2015. Nella provincia di Terni il 51,9% contro il 37,9% del 2015. Alle 23 viaggia verso il 66%. Borghi commenta Ciao ciao, giallorossi. Sono gli exit poll, aspettiamo i dati veri. Lo scrive su Twitter Claudio Borghi, deputato della Lega e presidente della commissione Bilancio, alla Camera commentando i primi exit poll che danno il candidato presidente del centro-destra, Tesei, distanziare di 20 punti. Il candidato PD e Movimento 5 Stelle. Anche Tajani dice ha vinto la rivoluzione pacifica. L'Italia del buon governo ha vinto anche in Umbria. Dal 4 marzo 2018 ad oggi il messaggio degli italiani è sempre lo stesso. Vogliono un governo di centro-destra. Congratulazioni a Donatella Tesei, ha vinto la rivoluzione pacifica. Così su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.